La FMI Shop, unita al gruppo Cirulli, sarà il main sponsor della prossima stagione sportiva 2015-2016 della Pallavolo Cirignola. Il sottalizio, che è cominciato un anno fa, punta assolutamente alla vittoria del prossimo campionato. Dunque, per il padrone Pasquale e Cirulli, vuole continuare nel progetto Fuxia, convinto della bontà delle ragazze che portano con passione avanti questa attività. Il presidente della Pallavolo Cirignola, Napolo, si è detto contento, bisogna avere le idee chiare, è una responsabilità importante per la prossima stagione. Intanto, la stessa società ha informato che ci sono contatti con diversi altri imprenditori per creare un'accordata che punti alla crescita sportiva ed umana dell'intero movimento, nonché al progetto in questione.